Benvenuti al TG Sud, la notizia del giorno. Ci parla purtroppo di un arresto per presunta violenza sessuale. I carabinieri hanno arrestato per ipotesi appunto di reato di violenza sessuale un 42enne già noto alle forze dell'ordine e questo è in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale procura. L'avrebbe violentata nel bagno di un locale di Trapani, ora il presunto responsabile dell'aggressione e agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Si tratta di un uomo di 42 anni che è stato fermato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo che ha condiviso le risultanze investigative raccolte dai militari dell'arma. L'episodio di violenza sarebbe avvenuto lo scorso mese di gennaio, la vittima sarebbe stata aggredita mentre era in bagno. È riuscita però a divincolarsi e a fuggire, il giorno dopo si è recata dai carabinieri a sporgere denuncia. Attraverso la descrizione dell'uomo fornita dalla vittima, gli investigatori sono riusciti a individuarlo. Un altro presunto caso quindi di violenza sessuale a Trapani dopo quello che in città aveva suscitato rabbia e sgomento e cioè l'aggressione subita da una donna ucraina in fuga dalla guerra. Il trapanese di 37 anni accusato di averla violentata brutalmente è stato rinviato a giudizio. Il prossimo 24 maggio dovrà comparire dinnanzi al Tribunale del Capoluogo. La violenza sessuale sarebbe stata consumata lo scorso 25 novembre nella zona del centro storico e precisamente in via Botteghelle sotto le mura di Tramontana. L'indagato anche lui come la vittima senza fissa dimora e con piccoli precedenti alle spalle ha sempre negato di aver violentato la donna e di aver avuto con lei un rapporto consensuale. Circostanza questa confermata dalla donna che però ha fatto una precisazione. Mi ha chiesto un rapporto particolare e al mio rifiuto ha usato la forza. Tutte le altre notizie tra poco nella prima edizione del Tg Sud. I titoli di oggi 300 e passa beni sequestrati dalla mafia. Conferenza di servizio in prefettura alla presenza del sottosegretario Vandaferro per parlare appunto della consegna e assegnazione di questi beni sequestrati alla mafia ai comuni della provincia di Tratani. Facciamo il punto sulle amministrative per il Capoluogo. A due settimane dalla scadenza per la presentazione dell'IS va prendendo sempre più forma il quadro delle candidature con l'IS supporto alle elezioni comunali. Potrebbe addirittura esserci un quinto candidato al sindaco. Ne parleremo tra poco. Il Gran Galà della legalità. In corso a Marsala la terza edizione dell'iniziativa organizzata dall'associazione Viva Voce insieme alla FIDAPA del distretto Sicilia. Al via domani Mangia Sano Italia. Tutto pronto a Erice per la manifestazione che punta alla valorizzazione della gastronomia siciliana. L'approfondimento invece prima lo sport. Parla Valerio Antonini, l'imprenditore romano. Ieri sera in diretta a Sport Sud ha presentato il progetto di rilancio dello sport in città fra calcio e basket. Intanto non si placano le vege, le polemiche interne nella società del travani calcio fra il presidente La Rosa e il vicepresidente Mazzara. L'approfondimento. Diamo la parola ai sindaci proprio di questi comuni interessati ai beni confiscati alla mafia. L'abbiamo intervistati nel corso della conferenza di servizio che si è tenuta ieri in prefettura. Apriamo il Tg proprio su questo argomento con questi beni della mafia distribuiti nel territorio della provincia di Trapani. Stiamo parlando di oltre 300 fra terreni, strutture, i beni immobili che sono stati sequestrati. Solo 121 sono quelli riconducibili a Matteo Messina Denaro. La conferenza di servizio in prefettura ha visto la presenza del sottosegretario agli interni, l'onorevole Vandaferro, il prefetto Corda dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati e sequestrati e ovviamente padrone di casa è stato il nostro prefetto Filippina Cocuzza. Una iniziativa assolutamente importante, una conferenza di servizi per determinare certamente il grosso, parliamo di oltre 100 beni confiscati appunto a Cosa Nostra, coinvolti gli enti pubblici della provincia di Trapani, a breve credo, nell'arco di un mese o un mese e mezzo, saranno ufficialmente consegnati. Questo è ancora una volta il segno, la dimostrazione che lo Stato c'è in questa provincia e sa fare il suo lavoro. Sì, confermo l'ultima sua affermazione, preciso subito che i beni non sono oltre 100 ma sono oltre 300. È una conferenza che periodicamente si programma in prefettura, l'ultima l'abbiamo fatta nel mese di luglio, mediamente ogni sei mesi vengono assegnati numerosi beni, oggi come dicevo sono oltre 300. Il valore ulteriore, la forza ulteriore che viene fuori da questa conferenza è il particolare momento storico che questa provincia sta vivendo a seguito dei noti eventi giudiziari. E quindi questi beni assegnati oggi ovviamente centuplicano la loro forza, il loro valore sociale nei confronti della collettività perché si dimostra concretamente alla collettività che appunto, come diceva lei, lo Stato c'è, le istituzioni ci sono, c'è un lavoro di anni e in tutto questo non è una cosa che si inventa o che nasce solo dopo l'arresto ma che adesso gli enti locali, i sindaci in particolare, devono essere così bravi da sapere valorizzare, rendere visibile e fare capire alla collettività che questi beni non sono solo frutto di illegalità ma hanno una nuova vita. La gestione dei beni confiscati e la criminalità, purtroppo le cronache raccontano di beni importanti, aziende che poi vengono lasciate quasi fallire, insomma, per una gestione probabilmente che va migliorata da parte dello Stato. Guardate, le gestioni possono essere tutte migliorate e migliorabili, certamente un'attività manageriale deve trovare sempre una propria esplicazione, però tenete presente che nell'ambito dei beni che noi gestiamo dal punto di vista dell'azienda, quindi le circa 3.000 aziende che noi gestiamo, il 68% sono scatole vuote, quindi nessuno deve pensare che stiamo parlando di luoghi dove si produceva alcunché, perché non si produceva proprio niente. Il 5% delle aziende, sono circa 150 aziende a livello nazionale, qualcosa di più, producono con 3.000 addetti, 3.000 persone che ci lavorano, hanno dei propri fatturati e funzionano molto bene. Dobbiamo stare molto attenti all'altra parte delle aziende, al di fuori di queste percentuali, cioè quelle per le quali è necessario controllare, verificare che queste possegano delle opportunità di mercato. Attenzione anche sotto questo profilo, queste aziende devono superare lo sciocchio di legalità, cioè sono aziende che fin tanto che venivano gestite dal soggetto mafioso, certo, magari andavano avanti, ma andavano avanti però perché non pagavano i contributi dei lavoratori, non gli pagavano lo stipendio, non usavano tutte le accortezze necessarie per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, cioè giocavano con le carte segnate, detta brutalmente. Vuol dire che riuscire a gestire, a riportare in una condizione di legalità e lo Stato questo deve fare e la legalità ha un suo costo, inutile che ci diciamo diversamente, allora riportarla in una condizione di legalità è faccenda estremamente complicata. Adesso apriamo la finestra per lo spazio della informazione elettorale. Proviamo a fare il punto della situazione sul cammino dei quattro aspiranti a sindaco per Trapani, a due settimane scarse dal limite ultimo per la presentazione delle liste. Tranchida aveva detto 10 liste e 10 saranno, le ultime da presentare ai cittadini sono quella di Vassallo e di Safina, a giorni completerà il tour delle ufficializzazioni e poi via con la raccolta delle firme necessarie. Miceli, per il momento le liste sono 5, MPA, Fratelli d'Italia, Amo Trapani, lista stoppe, la lista del sindaco che però potrebbe trasformarsi in lista di Forza Italia con tanto di simbolo ufficiale. Miceli afferma che ci sarà anche una stessa lista, quella della Lega e questo poiché l'onorevole Turano si è preso l'impegno formale davanti al Presidente della Regione, ribadisce il candidato sindaco e non abbiamo motivo di non credergli. Brillante, si ferma a quattro liste a suo sostegno, poteva farne una quinta ma ha preferito non disperdere energie e la concentrazione necessaria. Con lui ci sono Movimento 5 Stelle, Sud, Chiamanord e altre due liste civiche di riferimento progressista e moderato. Garuccio, una lista è più che sufficiente, sta continuando ad incontrare i trapanesi e ritiene di poter avere la forza elettorale necessaria per dire la sua in questa competizione elettorale, non per fare la bella presenza ma per essere dirompente. I quattro stasera saranno ospiti per il primo confronto televisivo a Telesud nella trasmissione De Politicum condotta dal nostro direttore Nicola Baldarotta. Appuntamento alle ore 20.45 sul canale 88 del Digitale Terrestre e sui social dedicati. Ma è possibile una quinta candidatura a sindaco per Trapani? È l'ipotesi sulla quale sta lavorando Natale Salvo. Natale Salvo, attivista per l'ambiente, i diritti umani ed umanitari, ha deciso che deve ancora una volta fare la sua parte per la città di Trapani. Ha incontrato gli altri candidati a sindaco per la città, forse non lo ha fatto con il solo Giacomo Tranchida e ha presentato loro una serie di punti da inserire nel loro programma di governo per Trapani. Alla risposta sì, mi piace, sentiamoci, non è stato dato seguito e lui, Natale, ha deciso di fare da sé. Sta lavorando per raccogliere le firme necessarie per presentare le liste a supporto della sua candidatura e pare intenzionato a fare sul serio. Se sono candidato davvero, afferma, lo sapremo solo il prossimo 3 maggio, quando scade il termine per la presentazione delle liste. Ma questo vale sia per me che per tutti gli altri aspiranti candidati a sindaco. Siamo certi che da qui ad allora qualcuno non si è costretto a fare un passo indietro per difficoltà tecniche, ad esempio nell'ottemperare le questioni tecniche e burocratiche necessarie per farsi validare la candidatura a sindaco, liste comprese. Un'idea progressista, certamente quella di Natale Salvo, è assolutamente moderna. Progetti che puntano sull'ambiente, su un'idea inclusiva per una Trapani del futuro. Non è nuovo ad avventure del genere, siamo certi che ci stia lavorando davvero sulla sua candidatura a sindaco, ma per il momento non rilascia alcuna dichiarazione ufficiale. Attende appunto di raccogliere le firme necessarie, costruire le liste e poi si vedrà. Per il momento si diverte a vedere che gli altri competitors hanno copiato diversi spunti da lui, suggeriti e messi nel loro programma per la città. Segno che di idee ce ne sono poche e hanno necessità di fare copia e incolla, afferma. Ci fermiamo tra poco con tutte le altre notizie nel prossimo blocco informativo. Adesso fra le altre cose parleremo di questo gran galà della legalità che è in corso a Marsala. Parliamo della terza edizione di questa iniziativa organizzata dall'associazione Viva Voce. Poi domani prende via l'iniziativa Mangia Sano Italia che vedrà appunto Erice come location principale. Infine lo sport. Parla Valerio Antonini ma ci sono ulteriori diatribe interne nella società fra La Rosa e Mazzara. A Marsala è in corso già dal 18 aprile e si concluderà domani il gran galà della cultura e della legalità che è giunto alla sua terza edizione. È organizzato dall'associazione culturale Viva Voce insieme alla FIDAPA del distretto Sicilia con la compartecipazione del comune e il patrocinio del ministero dell'istruzione e del merito. Tra gli ospiti più attesi nella giornata di ieri era presente il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri. I dibattiti vertono sull'evoluzione delle mafie nell'era digitale, sul caso Messina Denaro, sul perché la mafia non conviene. Tematiche destinate agli studenti la mattina mentre il pomeriggio i convegni sono rivolti agli avvocati e ad altri professionisti. Ieri abbiamo intervistato il presidente della Commissione Antimafia Antonino Cracolici e lo stesso Nicola Gratteri. Noi dobbiamo contrastare non solo la mafia e i mafiosi ma anche l'indifferenza che è uno dei sentimenti più diffusi e più estessi nella società siciliana. Per farlo dobbiamo muovere tutti gli elementi in campo. Stiamo lavorando assieme alla Chiesa, alla conferenza episcopale per costruire una rete di sostegno alla cultura della legalità in tutte le diocese siciliane. Stiamo rafforzando il rapporto con le amministrazioni locali e con i sindaci per costruire quel principio di comunità collettiva in grado di contrastare anche con attività specifiche. Stiamo mobilitando la scuola e stiamo mettendo in campo una serie di strumenti anche di tipo amministrativi, ad esempio protocolli di intesa e di legalità sul tema degli appalti, per cercare di rendere più complicata la capacità delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel sistema economico. Le mafie mutano col mutare sociale, non sono delle strutture statiche, proprio per questo riescono bene a mimetizzarsi e bene a interagire con la collettività. Le mafie per esiste hanno bisogno del consenso popolare, si nutrono di questo consenso e per questo dove c'è l'assenza della politica diventano modelli vincenti. Lei ha fatto un'accusa precisa alla politica, non c'è bisogno di commissioni antimafia, ha detto i politici sanno benissimo chi sono i mafiosi e dove sono. Ma nel senso che non c'è bisogno della commissioni antimafia per capire e per poter poi legiferare. Tutti sappiamo tutto e bisogna incominciare solo a sedersi e a scrivere le norme che servono per arginare il fenomeno, per non rendere conveniente delinquere, per far funzionare bene il sistema penale, processuale e detentivo. Come è andata con i ragazzi stamattina? Con i ragazzi va sempre bene perché i ragazzi ascoltano, assorbono come le spugne, sui ragazzi si può lavorare, sui ragazzi c'è tanto da fare e io vorrei che non ci si stancasse mai di dedicare del tempo, mettersi in ferie per andare a parlare ai ragazzi e a spiegare la non convenienza delinquere. Nella giornata di domani si svolgerà un corteo studentesco e una manifestazione in Piazza della Repubblica sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile, grazie anche alla collaborazione delle associazioni ambientaliste Legambiente di Marsa, l'associazione Mare Italia e Free Days for Future. Domani prende il via Erice Mangia Sano Italia, la manifestazione gastronomica che valorizza i prodotti tipici e le eccellenze della nostra regione. Si chiama Mangia Sano Italia, una manifestazione che celebra le materie prime della gastronomia siciliana ma non solo, infatti ha anche il pregio di proporsi come forte volano turistico per il borgo medievale ed in un periodo di norma poco fecondo per Erice. Domani partiamo ufficialmente con tutto quello che è da digustare, dei nostri prodotti che vengono della terra e soprattutto sono contenta perché abbiamo tantissimi oltre straniere che abbiamo all'arrivo degli americani. E poi un altro dato di fatto che queste cose vanno detto indipendentemente di questa manifestazione con grandi sacrifici perché anche questo va detto, però siamo qua in questo posto per me meraviglioso, io amo questo posto in maniera particolare perché non dico che ci sono nata ma quasi, per cui un augurio a tutti gli espositori e a tutta la manifestazione in se stessa. Domani è una grande giornata per il centro storico di Erice, Mangia Sano Italia inizierà dal 21 aprile fino al primo di maggio con un palinzesto ricco di iniziative, tutto incentrato sulla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del nostro territorio e quindi valorizziamo, celebriamo ma anche tuteliamo i prodotti della nostra terra attraverso il coinvolgimento di diversi attori in atto, fondazioni, l'Istituto Superiore Ignazio Vincenzo Florio Alberghiero che attraverso i suoi giovani si farà portavoce e ambasciatore anche di quella che è l'eccellenza culinaria del nostro territorio. Ci saranno diverse iniziative, l'Expo Village in piazza animato dalle casette di legno che torneranno nuovamente ad arricchire il nostro centro storico, laboratori di cucina e masterclass che si svilupperanno nelle mattinate che andranno dal 26 al 29 presso il Palazzo Sales dalle 10 alle ore 13.30 ma anche avremo degli approfondimenti, dei seminari, dei congressi presso la prestigiosa sala Dirac del Centro Studi Ettore Majorana e non solo, sarà aperto per l'occasione la sezione etno-antropologica del Polo Museale Cordici presso il quartiere spagnolo e lì sarà possibile visitare una mostra incentrata sulle arti e gli antichi mestieri di un tempo che metteranno in evidenza anche l'importanza dei prodotti della nostra terra e i ciceroni per l'occasione saranno i ragazzi dell'alberghiero che ci racconteranno come un tempo avveniva la raccolta delle orive e la raccolta del grano e durante ovviamente il corso di queste giornate sarà possibile assaggiare e degustare quelle che sono le prelibatezze della nostra terra. Ci vediamo domani mattina alle 11.30 qui a Piazza della Loggia a celebrare insieme le eccellenze del nostro territorio. Andiamo invece a Favignana dal prossimo 23 giugno, lo stabilimento Florio ospiterà la mostra tra il fuori e il dentro curata dall'associazione Art and Prison di Berlino assieme al Centro di Formazione alla Meditazione Cristiana di Roma e la Fondazione Severino Onlus oltre che con il supporto del Comune. In esposizione ci sono opere realizzate da detenuti di ogni parte del mondo. Peter Echter Meyer, presidente di Art and Prison, Ingrid Raimold e Cornelia Schmidt-Armel, rispettivamente direttrice e curatrice del progetto, sono in questi giorni a Favignana per definire l'allestimento. La collaborazione tra il Comune di Favignana e Isole Ega, l'associazione Art and Prison di Berlino, la Fondazione Severino Onlus e il Centro di Formazione e Meditazione Cristiana hanno dato vita ad una collaborazione che porterà ad un evento di valore internazionale, anche grazie al patrocino e al sostegno finanziario della principessa Sofia dell'Ictestein. Io credo che questa mostra sull'arte e il carcere, frutto del lavoro, della creatività, della fantasia, di artisti privati della libertà di tutte le parti del mondo, ponga Favignana al centro di un interesse e di un'attenzione che va oltre il nostro territorio e la nostra stessa nazione. Favignana, tra tutte le isole carceri italiane, è l'unica che ha un penitenziario ancora attivo. E la collaborazione tra istituzioni culturali e il nostro Comune vuole porre l'attenzione proprio su questo, sul recupero delle persone private e della libertà, sulla pena come riparazione, sull'arte e la creatività che non si ferma e non può rimanere imprigionata dietro nessuna barriera. Io sono molto contento di essere qui con Cornelia e Ingrid qui a Favignana, è la terza volta che posso venire. Io mi chiamo Peter e sono stato in carcere per 35 anni lavorando con gli incarcerati come diacono permanente. Allora il messaggio anche della libertà si può trovare anche nei documenti, per esempio, della Bibbia, nel Vangelo e tutto questo. Ma non è soltanto una cosa religiosa per me, sì, ma è anche tutto il mondo, degli artisti venendo da tutto il mondo sono interessati a questo. Quando si parla della libertà si può vedere questo anche nei quadri, venendo da tutto il mondo, come ho detto, dell'Ucraina, della Russia, della Belorussia, anche della Tunisia, del Messico, di altri continenti. E ci sono sempre arte, c'è un'arte che è uno specchio, uno specchio veramente della libertà. Questa sera alle 20.45, non più alle 21, segnatevelo, anche se andremo in diretta un po' prima con la sistemazione proprio degli ospiti in studio, ci sarà il primo confronto tra i quattro candidati a sindaco per Trapani nella trasmissione De Politicom, che appunto anticipa alle 20.45 e non alle 21. Ci saranno il sindaco di Trapani, uscente e ricandidato Giacomo Tranchida, Maurizio Miceli, Francesco Brillante e Anna Garuccio, in diretta sul canale 88 del Digitale Terrestre, ma anche sulle nostre pagine Facebook e social, quindi YouTube, e anche in diretta streaming sul nostro sito ufficiale. Vi aspetto questa sera, sapete che potete anche interagire con noi, anche se con i quattro ospiti, diciamo, magari sarà più interessante leggere e ascoltare quello che diranno. Alle 20.45 questa sera in diretta, vi aspetto, adesso invece ci fermiamo e dopo lo sport. Apriamo con la Handball Erice che torna in campo sabato alle 18 per il penultimo impegno del campionato di Serie A delle Arpie, che al Palacardella ricevono il Mezzocorona. Dopo lo stop di due settimane, scrivono nella nota ufficiale, riprendiamo la Regular Season con una partita importante, sia per noi, affinché si mantengano alti gli entusiasmi, che per il Mezzocorona, che deve portare a casa punti preziosi in vista della fine del campionato. Nella pausa hanno continuato gli allenamenti di gruppo individuale, si stanno definendo nuovi schemi, oltre che preparare al meglio le ultime partite in proiezione dei play-off scudetto. Queste sono state le parole di Carmelo Benigno, che è il General Manager e ricino delle Arpie. Invece parliamo di calcio. Ieri c'è stata questa nota da parte del Presidente della Trapani, La Rosa, ma nel corso della puntata speciale, andata non da ieri sera, di Sport Sud, in cui è intervenuto l'imprenditore Valerio Antonini, tanti i temi che sono stati abbracciati sul futuro del basket e del calcio. Alla nota di La Rosa ha risposto Michele Mazzara, che smentisce il Presidente Granata. La società FC Trapani 1905 non è mai stata in vendita. Questa, una delle dichiarazioni riportate ieri sera dal Presidente Marco La Rosa, attraverso un comunicato in cui smentisce, a suo dire, fantomatiche voci su cessioni societarie, rilanciando altresì con forza la programmazione della prossima stagione, coinvolgendo il socio di minoranza Michele Mazzara, il quale però, attraverso le parole dell'Avvocato Francesco Fabiano, ha smentito il tutto nel corso della puntata speciale di Sport Sud con ospite Valerio Antonini. Per la completezza di informazioni e per il forte rispetto che ho per la piazza di Trapani, essendo tifoso sin dalla nascita, sento il dovere di comunicare che allo stato di oggi, tra i soci Mazzara e La Rosa, non vi è alcun dialogo né tantomeno alcun programma per il futuro. Ad oggi è stata fatta una richiesta da Michele Mazzara, mio tramite, di avere la documentazione contabile della società, non essendone a conoscenza e non essendo stato mai coinvolto nel progetto, dall'inizio della stagione tuttora in corso. Questa richiesta nasce perché il socio Mazzara ha sempre manifestato in questo stato di cose la volontà di uscire dalla compagine sociale ed ancora ha più forte ragione oggi, a seguito dell'importante quanto inaspettata proposta economica di acquisto avanzata dal dottor Antonini nelle ultime ore. Un caro saluto, stiamo parlando del legale di Michele Mazzara, e quindi questa è una precisazione importante. L'imprenditore romano, prossimo all'acquisto delle quote di maggioranza della Pallacanestro Trapani, ha precisato come le ispirazioni in A2 siano di alta classifica, abbracciando anche l'importante tematica dell'impiantistica sportiva in città, oltre al settore giovanile, argomento centrale nel progetto di Antonini, sia che si tratti di calcio o di basket. Sembrerebbe che la creazione della prossima squadra della Pallacanestro Trapani potrebbe ambire ai play-off. Beh, io spero proprio di sì, visto che dobbiamo andare crescendo rispetto comunque agli ottimi risultati avuti fino ad oggi, è chiaro che noi punteremo sicuramente a play-off. Oggi le attività sportive non possono prescindere da contesti sportivi adeguati alle nuove normative innanzitutto, ma anche a una, diciamo, io ho visitato sia il palazzetto che lo stadio del calcio. Le condizioni sono tali che necessitano di lavori importanti, di ammodernamenti che riguardano non soltanto le infrastrutture, ma un po' tutto l'apparato gestionale degli impianti, e quindi quello è fondamentale. Io sicuramente parlerò anche con il Comune, perché il Comune deve collaborare su questo, non ci sono dubbi, perché se vogliamo portare la squadra ai livelli che merita, dobbiamo avere gli impianti che merita. Io credo che il tema del settore giovanile è il futuro, tanto per il basket che per il calcio, perché oggi la prima cosa che ho notato, io parlando un po' con chi è sia nel Trapani Calcio che nel Trapani Basket, anche per dimostrare la differenza delle due situazioni, nel Trapani Basket ho visto che c'è una situazione oggi completamente in essere, i giovani hanno dove allenarsi, c'è una struttura seria. Nel calcio giovanile invece, parlando con gli addetti dell'attuale gestione del Trapani, invece si sono tutti, non solo lamentati, ma hanno descritto una situazione che è abbastanza incresciosa, anche perché la provincia di Trapani, se non sbaglio, sono oltre 600 mila abitanti, quindi di giovani che possano dare anche un apporto in termini di presenza e di potenziale crescita dell'apparato giovanile, ce ne sono tantissimi, quindi è anche paradossalmente un boomerang negativo non sfruttare il settore giovanile, che invece sarà, e questo lo dico, ma insomma è parte del business plan che presenteremo, è al punto numero due, dopo le infrastrutture, c'è il settore giovanile, perché il settore giovanile sarà parte della prima forza di investimento che faremo. Parliamo di nuove possibilità per i comuni, sono 328, come abbiamo sentito, i beni confiscati dalla mafia in provincia di Trapani che verranno assegnati nei prossimi mesi a diversi comuni, tra questi Castelvetrano, Salemi, Custonaci, ed ancora Castelammare del Golfo, Campobello di Mazzara, Trapani, Paceco, Valderice, Partanna, Marsala e Alcamo. La disponibilità è stata espressa per 288 dei 328 beni originariamente prepossi, il valore si aggira intorno a 13 milioni di euro. Soddisfazione ovviamente da parte dei sindaci, alcuni erano presenti ieri e li abbiamo intervistati. Abbiamo fatto richiesta insieme alla Prefettura per ottenere questo bene confiscato alla mafia, è una struttura ricettiva importante che è ricata nel nostro territorio, più specificatamente nel territorio di Lidovalderice, quindi nella zona balneare. L'obiettivo è quello di produrre in questa sede scopi e fini sociali, quindi lo vogliamo affidare a qualche cooperativa, a qualcuno che ha voglia di fare qualcosa di concreto nel nostro territorio, perché no? Mi auguro che ci sia da subito la disponibilità da parte di qualcuno, noi faremo un avviso pubblico così come prevede la normativa e speriamo di affidarlo prima possibile. Dei terreni più un fabbricato rurale, io ho proposto un'altra cosa al sottosegretario, spesso e volentieri i comuni hanno il problema di gestire questi piccoli terreni, insomma sono contenuti anche come estensione superficie, ma perché? Visto e considerato che dobbiamo valorizzare la destinazione Sicilia, dobbiamo valorizzare la dieta mediterranea, lo Stato non pensi, il governo, di darci una mano d'aiuto per fare una sorta di grande holding con giovani che possa valorizzare queste terre con prodotti di filiere e con aiuto statale. Bello dire che questo prodotto viene da una terra che prima era dei mafiosi, adesso è diventata cosa nostra e salute per tutti. Il Castellammare quest'anno ha fatto una scelta, devo dire, di campo, nel senso che rispetto a un elenco abbastanza corposo di bene, abbiamo deciso di individuare quei beni, abbiamo chiesto di avere quei beni che effettivamente possono essere valorizzati, sfruttati e che siano utili a tutta la collettività. Abbiamo preferito puntare su dei terreni nella zona prettamente turistica perché si possono potenziare un domani i parcheggi, si possono potenziare una serie di infrastrutture che possono essere utili, ripeto, a tutta la comunità. Ci sono stati dati, anche se ancora dobbiamo perfezionare tutto, ma gli altri deliberativi già sono a posto, 52 beni, tra i quali c'è una struttura recettiva, una struttura che invece deve essere completata e poi delle aree che possono essere utilizzate per fini sociali, per creare parcheggi, servizi alle scuole, un'area che è una zona balneare di Cornino che può essere utilizzata anche lì per creare dei servizi. Abbiamo già ottenuto dei finanziamenti con il PNRR, nello specifico per appartamenti per famiglie disabili, quindi siamo davvero contenti e l'opportunità, la testimonianza di un incontro fra tutti i sindaci è significativo con un messaggio esterno sui beni confiscati e sul pieno riutilizzo e valorizzazione di questi stessi beni. Un grandissimo appezzamento di terreno con un'azienda agricola abbandonata negli anni, anche visivamente una cosa brutta da vedere, tornerà a poter essere coltivato, perché il senso e il segnale è proprio questo, cioè bisogna ridare una destinazione economica a questi beni per far sì che passi il messaggio che la legalità conviene e dà dei risultati, posti di lavoro e quant'altro. Questo è quello a cui miriamo. Noi già avevamo ottenuto in passato parecchi beni, c'è un bene intercluso di cui abbiamo discusso, ma la presenza qui oggi dello Stato è importante. Questo modo di procedere con la presenza fisica ha dato anche un segnale ben preciso. Il fatto di consegnare tutti questi beni alla nostra provincia, ai nostri territori, ai nostri enti locali, dopo l'episodio fortunato del 6 gennaio, noi oggi diamo un segnale anche particolare, un messaggio che vada nella direzione giusta. Grazie a tutti.